Qui Remi si è la prima pietra. Questa è la targa di Libero Natalini che abitava là. Le case vennero buttate giù. Perché c'era tutto un discorso di quello che sarebbe dovuto avvenire a Carvadella. Sia là c'erano le case, sia là. Quello è il parco Maurizio Arena dove fanno i film e mai hanno fatto un film dedicato a Maurizio Arena, all'Arena di Carvadella. E questi sono i cassonetti d'epoca perché la Carvadella ha 102 anni e hanno pensato bene di tenere questi cassonetti d'epoca. Flash di Garvadella magica, guardate.